Il magistrale epilogo della stagione della promessa, andato in onda in Spagna, ha scatenato un turbine di emozioni tra gli spettatori, spazzando via ogni aspettativa e regalando un finale avvincente e sorprendente. La trama ha saputo abilmente tessere un intricato mosaico di suspense attorno alle vicende di Curro e Giana, creando un labirinto di misteri e domande senza risposta che ha tenuto gli spettatori inchiodati alla loro poltrona. Il fulcro della narrazione è stato il percorso di scoperta dell'identità di Curro, una trama avvolgente che ha esplorato le profondità dell'animo umano. La ricerca delle radici, la lotta per comprendere la propria identità e la collocazione nel mondo hanno reso la trama avvincente e toccante. Il tema centrale della serie ha sfiorato corde emotive profonde, coinvolgendo gli spettatori in una riflessione su temi universali e intangibili. La tensione è cresciuta man mano che il sipario si è alzato sulla verità nascosta di Curro, generando un climax che ha lasciato tutti a bocca aperta. I protagonisti, intrecciati nel destino, hanno affrontato rivelazioni scioccanti, trasformando la trama in un viaggio emozionante attraverso l'incertezza e la sorpresa. Con maestria narrativa, la promessa ha plasmato una stagione che ha catturato l'attenzione degli spettatori, offrendo una storia coinvolgente che va ben oltre il semplice intrattenimento. Gli spettatori sono stati guidati attraverso un kaleidoscopio di emozioni, lasciando il pubblico in attesa ansiosa di ulteriori sviluppi nella trama e delle sorprese che il prossimo capitolo della serie potrebbe riservare. Le settimane che hanno preceduto il gran finale sono state pervase da un crescendo esponenziale di emozioni, con la trama che ha abilmente intrecciato un mosaico intricato di indizi e false piste, preparando il terreno per uno sconvolgente epilogo. Il pathos ha raggiunto livelli epici, trasformando ogni momento in un'esperienza coinvolgente, e ogni dettaglio in un tassello fondamentale del puzzle narrativo. Il culmine di questa intensa narrazione è stato l'arrivo di Ramona a Luian. Questa figura misteriosa, avvolta in un'aura di segreti e portatrice di informazioni vitali, è stata accolta come il messaggero della verità. La sua presenza ha alimentato le aspettative, poiché tutti si aspettavano che svelasse il passato nascosto e doloroso di Dolores, la madre di Curro. Ramona è diventata la chiave per rispondere alla domanda che ha tormentato il protagonista per tutta la sua vita. La tensione nella comunità di Luian, così come tra il pubblico a casa, ha raggiunto livelli febbrili nell'attesa che il velo di segretezza fosse finalmente sollevato. Ogni sguardo, ogni dialogo e ogni silenzio è stato interpretato come un possibile indizio, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso. La rivelazione imminente è diventata il fulcro attorno al quale gravitavano tutte le aspettative, promettendo di cambiare il corso della storia e di gettare nuova luce sui misteri finora oscuri. Il gran finale ha rappresentato non solo la conclusione di una stagione avvincente, ma anche il momento in cui ogni pezzo del complicato puzzle narrativo ha trovato il suo posto. Gli spettatori hanno assistito con il cuore in gola, pronti a scoprire quale verità si celasse dietro il velo di suspense, mentre la storia raggiungeva il suo apice in un'esplosione di emozioni e rivelazioni. Tuttavia, in un colpo di scena che ha sconvolto ogni previsione degli spettatori, Ramona ha scelto di avvolgersi in un silenzio assordante, mantenendo gelosamente per sé le chiavi di quel passato tanto atteso. Questa mancata rivelazione ha gettato i protagonisti, insieme a tutti coloro che li hanno seguiti con fervore, in uno stato di incertezza ancora più profondo. Le aspettative, costruite con attenzione nei capitoli precedenti, sono state capovolte, lasciando tutti sospesi in un limbo emotivo e narrativo che ha solo acuito il bisogno di risposte e la fame di comprensione. La serie ha dimostrato una magistrale abilità nel giocare con le aspettative del suo pubblico, costruendo una tensione che ha raggiunto il suo apice in questo finale di stagione. Ciò che sembrava destinato a essere il momento epico di rivelazione e chiarimento si è trasformato in una scena intrisa di rinnovato mistero e complicazione. La delusione e l'incredulità dipinte sui volti dei personaggi principali rispecchiano perfettamente lo shock e l'insoddisfazione che permea la comunità di spettatori. Questa svolta inaspettata ha aggiunto uno strato di complessità alla trama, aprendo nuovi scenari e interrogativi senza risposta. La scelta di Ramona di mantenere il suo segreto non solo ha colpito gli spettatori con un colpo di scena, ma ha anche agito come un catalizzatore per la creazione di nuove teorie e supposizioni che terranno i fan impegnati in appassionati dibattiti e discussioni fino al ritorno della serie. I creatori della promessa hanno dimostrato una maestria straordinaria nel maneggiare gli elementi del thriller psicologico, intrecciando le vite dei personaggi in una trama densa di emozioni e suspense. Mentre gli spettatori si riprendono dallo shock del finale, siamo certi che le vicende di Curro e Gianna non hanno ancora svelato tutti i loro segreti. La prossima stagione si preannuncia ricca di nuove sorprese e rivelazioni che manterranno viva l'attenzione del pubblico. Il modo in cui la trama ha abilmente tessuto una rete intricata di misteri ha lasciato gli spettatori con un sapore di insoddisfazione controllata, spronandoli a formulare ipotesi e teorie su cosa potrebbe accadere in futuro. Questo episodio ha rappresentato un punto di svolta cruciale per la narrazione, poiché i protagonisti si sono trovati di fronte a un ostacolo inaspettato nel loro percorso verso la verità. La decisione di Ramona di mantenere il suo segreto ha non solo aggiunto un livello di complessità alla trama, ma ha anche suscitato un'onda di speculazioni e interrogativi tra gli spettatori. Il pubblico si ritrova ora ad affrontare la sfida di decifrare i significati nascosti dietro il silenzio di Ramona, mentre la trama si sviluppa in nuove direzioni cariche di suspense e mistero. Le informazioni tanto attese da Ramona erano considerate il pezzo mancante di un puzzle complesso, un tassello fondamentale che avrebbe dovuto completare il quadro della storia e delle origini di Curro e Gianna. Tuttavia, anziché rivelare la chiarezza tanto sperata, i protagonisti si sono ritrovati a navigare in acque ancora più torbide, con la sensazione di essere vicini alla verità e, allo stesso tempo, così lontani. Il senso di frustrazione si è mescolato alla consapevolezza di quanto rimanga oscuro e irrisolto. L'atteggiamento riservato di Ramona solleva interrogativi cruciali. Perché ha scelto di rimanere in silenzio, trattenendo le informazioni che avrebbero potuto gettare luce sui misteri della trama? Che peso ha la verità sulle sue spalle? E perché ha deciso di custodirla così gelosamente? La decisione di non parlare è guidata dalla paura, dalla lealtà o forse da un intricato calcolo personale? Questi interrogativi sono come nodi che richiedono di essere sciolti per comprendere appieno la complessità della storia. La mancanza di risposte da parte di Ramona aggiunge un nuovo strato di tensione alla trama, poiché i protagonisti si trovano di fronte a una serie di domande senza risposta. Questo impatto sulla narrazione solleva ulteriori dubbi sul destino di Curro e Gianna. Come affronteranno questa nuova incertezza? Come influenzerà il loro rapporto e la loro ricerca della verità? E proprio quando tutto sembrava perduto, un inaspettato ritrovamento ha cambiato il corso degli eventi. Curro, frugando tra le vecchie carte di famiglia, è incappato in una lettera scritta dalla mano di Dolores. Le parole della donna, ormai scomparsa, hanno rischiarato l'oscurità del mistero come un faro nella notte, aggiungendo un nuovo capitolo di suspense e rivelazioni alla trama intricata. L'epica rivelazione che Don Alonso, il marchese di Luian, noto alla comunità e a Curro come zio, si è rivelato essere il vero padre di quest'ultimo, ha scosso le fondamenta della serie e del villaggio di Luian. Questa sconvolgente verità ha rivelato connessioni familiari insospettate, creando un terreno fertile per nuovi sviluppi intriganti nelle prossime stagioni. Al centro di questa intricata rete di intrighi si trova il personaggio di Marcos, come alcuni appassionati della serie amano chiamarlo. Con un tono di confidenza derivante dall'affetto sviluppato verso i protagonisti delle storie che ci appassionano, la sua figura, già ricca di sfumature, è stata improvvisamente catapultata in un vortice di emozioni contrastanti e nuove sfide da affrontare. L'inaspettata rivelazione che ha scosso le fondamenta del mondo di Marcos, noto ora come Curro, lo ha gettato in una realtà completamente nuova e sconcertante. La scoperta della sua vera paternità va oltre il semplice fulmine a ciel sereno. È un evento sconvolgente che porta con sé implicazioni profonde per le dinamiche familiari, specialmente con sua sorella Gianna. La loro relazione, fino a questo momento considerata forse scontata e definita dai legami di sangue, dovrà essere riconsiderata e ricostruita sulla base di questa verità appena immersa. La curiosità tra gli spettatori cresce, poiché sono impazienti di scoprire come Marcos, ora Curro, affronterà questa complicazione non solo a livello personale, ma anche nei confronti degli altri membri della famiglia. La gestione di questa sconvolgente rivelazione potrebbe delineare nuove dinamiche e cambiamenti nelle relazioni che fino ad ora sembravano solide. Il colpo di scena ha anche gettato nuova luce su retroscena inediti, svelando dettagli che possono avere un impatto significativo sulla trama. In particolare, la figura della Marchesa Cruz, ora vista sotto una nuova prospettiva, potrebbe essere coinvolta in modi che fino ad ora erano nascosti agli occhi degli spettatori. Le sue azioni e comportamenti, in particolare, potrebbero essere reinterpretati alla luce di questa nuova rivelazione. La storia di Curro continua a evolversi in un intreccio sempre più intricato di segreti e relazioni, mantenendo la serie avvincente e coinvolgente per gli spettatori. Il profondo risentimento della Marchesa Cruz verso Curro, inizialmente percepito come un odio inspiegabile e privo di fondamento, rivela ora le sue radici in un doloroso tradimento. La rivelazione della vera paternità di Curro offre al pubblico una comprensione più profonda del suo animo, poiché Curro incarna la ferita più dolorosa, quella dell'inganno perpetrato dal marito. Questa scoperta fornisce una nuova prospettiva sulle azioni passate della Marchesa Cruz, gettando luce su un contesto più ampio per il suo personaggio, che fino a questo momento poteva essere stato giudicato in maniera superficiale o frainteso. La narrazione della serie ha creato uno spazio per esplorare in profondità le emozioni e i motivi dei personaggi, rendendo la Marchesa Cruz un personaggio più complesso e sfaccettato di quanto inizialmente apparisse. Le voloversi delle dinamiche familiari ora che il velo del segreto è stato sollevato promette di essere coinvolgente e pieno di sfide. Come affronteranno Curro e Gianna questa nuova realtà? E quale sarà la reazione della Marchesa Cruz alla diffusione di questa verità? I quesiti sollevati forniscono un terreno fertile per discussioni e teorie che vanno ben oltre la trama presentata. Gli sceneggiatori hanno abilmente tessuto una narrazione complessa, che non solo intriga gli spettatori con colpi di scena, ma li spinge anche a riflettere sulle dinamiche umane, sui rapporti di lealtà e tradimento. La scoperta dell'identità del padre di Curro, rivelatosi essere il Marchese Don Alonso, non solo è un colpo di scena magistrale, ma solleva anche una serie di domande intriganti sulla natura delle relazioni tra i personaggi, sulla veridicità di ciò che è stato mostrato fino ad ora e sul futuro delle loro interazioni. È giunto il momento che la comunità di fan entrì in gioco, analizzando e speculando su quello che è accaduto e su cosa potrebbe accadere in seguito. Invitiamo tutti a condividere le proprie teorie e impressioni nei commenti. Questa rivelazione ha colto anche voi di sorpresa? Pensavate che dietro l'enigma dell'origine di Curro si celasse il Marchese, o i vostri sospetti cadevano su un altro personaggio? Ogni ipotesi, ogni piccolo indizio raccolto durante le puntate può ora assumere un nuovo significato alla luce di questi eventi. La bellezza di una narrazione complessa come quella della promessa è che ogni spettatore può portare la propria prospettiva e intuizione, arricchendo così l'esperienza collettiva. Cosa pensate che riservi il futuro per Curro, Don Alonso e gli altri personaggi chiave? La scena è pronta per nuove teorie e aspettative, e la comunità di fan è pronta a esplorare ogni possibile sfaccettatura di questa storia avvincente. L'invito è esteso a tutti gli appassionati della serie, restate sintonizzati con noi. Mantenete alta l'attenzione e l'entusiasmo per i nuovi aggiornamenti che verranno pubblicati. Posteremo video esclusivi che potrebbero offrire ulteriori indizi o forse gettare ancora più mistero sulla già intricata vicenda. La promessa ha dimostrato ancora una volta di essere un vero e proprio puzzle narrativo, dove ogni pezzo ha il suo posto e ogni rivelazione è un tassello che si aggiunge al grande disegno. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere le ramificazioni di questa scoperta. Quindi non perdete nessuna novità e continuate a seguire con noi le vicende di Curro e degli abitanti di Luian. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like al video per non perdervi le prossime anticipazioni sulla promessa. Siamo pronti a esplorare insieme ogni dettaglio di questa storia avvincente e a condividere la passione per il mistero e l'intrigo che la caratterizzano.